Ok ragazzi, ho già dato un effetto che è veramente incredibile, sto con tre donne, mi serve un'altra donna quindi appena subito al volo, però mi servirebbero anche altre carte, altre carte sì, queste potrebbero andare bene, sì, diciamo di sì, fondamentalmente sì, ma altre carte ancora mi servono, eh sì perché per fare questo effetto mi servono un po' di carte, ma sì però mi servirebbero altre carte ancora, altre carte perché con queste carte posso, sì, diciamo che se ci siano tutte le carte, perfetto, sono 52 alla faccia, quante carte, ok, perfetto.